Con la pandemia in corso a rimetterci sono sempre le fasce più deboli della popolazione. Un sistema sanitario che per il presidente di autismo Abruzzo Ollus Dario Verzulli fa acqua da tutte le parti per i loro ragazzi. L'emergenza sanitaria ha peggiorato le cose con liste di attesa bloccate e interventi sospesi. La presa in carico di un paziente con bisogni speciali però si sa che è diversa per tipologia di servizio e organizzazione. Per Verzulli le conseguenze sono devastanti per i ragazzi. Oltretutto neanche le sale operatorie molto spesso sono attrezzate per alcuni interventi. Basti pensare all'implontologia dentale o a interventi relativi ai denti. La triste realtà è che l'associazione ogni 15 giorni è costretta ad andare in tribunale per ricordare a tutti che l'autismo NLEA e i ragazzi autistici hanno diritto alle cure previste per legge. Non può essere che un bambino con un mal di denti o con un dente da estrarre o da curare debba aspettare settimane o mesi perché collocate in lista d'attesa senza una data prevista dell'intervento. Non esiste che famiglie abruzzese debbano andare a Lancona, Bologna o altrove per l'estrazione di un dente. Allora la pandemia ci costringe ad organizzarci. È arrivato il momento di pianificare questo tipo di intervento e di realizzare almeno in Abruzzo un centro, una struttura, un reparto di competenza diretta che possa accogliere le emergenze ma anche gestire la pianificazione e la prevenzione per la salute orale. Il governo italiano, lo Stato italiano ha fatto un protocollo sulla salute orale per gli utenti non collaboranti nel 2019. Molto dettagliato rimane ancora oggi carta straccia. Un'altra situazione è quella delle scuole. Con il ritorno in DAD qualche problema c'è stato soprattutto nel Chietino per i ragazzi autistici. Siamo riusciti a risolvere i problemi che ci sono stati segnalati nell'area aquilana. Permangono dei problemi a Chieti. Per esempio c'è una famiglia che ci ha segnalato stamattina che il proprio figlio non è potuto andare a scuola perché la scuola di competenza, le superiori, ha obbligato la DAD a tutti gli studenti, compresi i ragazzi con un PEI differenziato e quindi con disabilità. Questa è un'azione illegittima che viola il diritto all'inclusione scolastica di questo ragazzo. Purtroppo un'interpretazione abbastanza discutibile dell'ultima ordinanza di Marsilio che ha giustamente collocato i ragazzi grandi e delle superiori in DAD, pur avendo richiamata la normativa che autorizza l'elezione online, l'elezione in presenza, non è stata ben compresa da alcune scuole.